Salvare una vita con un sorriso. Un grande impegno per l'associazione La Panchina che ogni anno promuove l'evento Giornata per la Vita e per Vito. Gioco e informazione, divertimento e partecipazione, allegria e buone prassi. La manifestazione si tiene venerdì 24 agosto 2018 ad Albanella ed ha ricevuto il patrocino dei comuni di Torchiara, Albanella e Orria. L'attività rientra nelle iniziative sostenute dal CSV Salerno nell'ambito dei MAP 2017. Location sarà Borgo San Cesario di Albanella. Il ricavato sarà utilizzato per cardioproteggere i comuni di Torchiara e Orria e per la sostituzione delle batterie per il defibrillatore presente nel comune di Altavilla, Silentina. L'obiettivo dell'associazione La Panchina, attiva dal 2010, commenta Emilia Verderame, presidente dell'organizzazione, è quello di installare defibrillatori automatici nei piccoli comuni cilentani, lontani dalle strutture ospedaliere. Un DAE, defibrillatore automatico, permette di salvare vite umane.